L'unica differenza è stata quella della Polizia Municipale che mi sono già già stata congiunta e io ancora non capisco il perché. Va bene, tutto quello che è fatto per o migliorare il servizio non spendendo di più, o tenere la crescita qualità del servizio spendendo di meno, va a favore di quello che ci vuole oggi a me. Però nel momento di un'unione, che a me personalmente non piace, ma non per questo, perché anche io avrei visto a distanza di due anni che ormai le forme associate, le condizioni, passassero all'unione. Sennò mi viene da pensare che cosa l'abbiamo fatta fa, anche se poi continuiamo a dire tanto non costa niente, però se non costa niente non fa niente, tanto la prezzo che viene non lo vedo. Quindi annuncio il mio voto di ascensione. Grazie. 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 Grazie.